Lampeggianti all'alba, doppio blitz dell'arma. Nella piana di Togliatauro, secondo atto dell'operazione Provvidenza contro la Cosca Piromalli. A Catanzaro, sguminata una gang dedita a furti e distorsioni. Vittima di una follia omicida, Mario Torchia, ufficiale giudiziario e già vice sindaco di Francavilla, Angitola, assassinato nella sua abitazione da un giovane parente. Ferito il figlio, salva la moglie, arrestato l'assassino. Tensioni trasversali nella politica calabrese e riunione fiume tra i democratici in vista del congresso sul quale spirano incessanti eventi di scissione. L'ingresso di Vandaferro in Consiglio regionale spariglia il centrodestra. Maurizio Landini a Cosenza, il numero uno della FIOM CGL nel capoluogo Bruzio, incontro con gli operai metalmeccanici, le sue considerazioni sulla profilata scissione nel Partito Democratico. Liga Bue conquista Reggio Calabria, tutto esaurito per il cantautore che sei anni dopo torna sulla punta dello stivale con il suo tour Made in Italy, un concerto che trascina ed entusiasma quattro generazioni. Buonasera da Rossella Galati, benvenuti all'edizione della sera di LAC News 24. Lo sentivate nei nostri titoli e la cronaca in primo piano nella piana di Gioia Tauro. All'alba di stamani i carabinieri hanno dato esecuzione al secondo atto dell'operazione denominata Provvidenza, che ha assestato un duro colpo al clan Piromalli. I particolari con Consolato Minniti. Avevano ancora un enorme potere i fratelli Giuseppe e Antonio Piromalli, talmente grande da riuscire ad orientare gli equilibri criminali dell'intero mandamento tirrenico, nonché condizionare il tessuto economico imprenditoriale, specie nei settori dell'agroalimentare e delle strutture ricettive. Lo hanno scoperto i carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria, che questa notte, con l'operazione Provvidenza 2, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere messa nei confronti di 12 persone. Le accuse sono a vario titolo di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, intestazione fittizia di beni, truffa ed altri reati aggravati dalle modalità mafiose. Il provvedimento segue quello emesso poco meno di un mese fa, sempre dalla DDA di Reggio Calabria, che ha messo in ginocchio la potente cosca Piromalli di Gioia Tauro. Continuava a dare ordini dal carcere dunque Giuseppe Piromalli facciazza, mentre a suo fratello Antonio era demandato il compito di stabilire le strategie criminali e riannodare i rapporti con la cosca Molè, attraverso Michele Molè, per la divisione dei proventi illeciti ottenuti al porto di Gioia Tauro. Sono emerse poi le figure di imprenditori come Gioacchino e Domenico Careri, da sempre vicine ai Piromalli operanti nel settore oleario, ma anche l'imprenditore italo-americano Rosario Vizzari. I carabinieri hanno sequestrato anche beni per un valore di 50 milioni di euro, fra cui il noto consorzio Copan di Varapodio, costituito da oltre 40 aziende e cooperative agricole, operanti nella Piana ma anche in Sicilia e nel Lazio. Secondo l'accusa, i Piromalli lo avevano infiltrato grazie all'imprenditore Rocco Scarpari, semplice dipendente, ma in realtà vero dominus dell'azienda. Consolato Minniti, per la CNews24. E a Catanzaro i lampeggianti dell'arma questa mattina hanno preceduto l'Alba, sgominando una banda composta prevalentemente da persone di etnia Rom, dedita ai furti d'auto e alle estorsioni. Sentiamo. Lo Stato è presente, il cittadino deve fidarsi dello Stato e deve collaborare lo Stato nel raggiungimento di questo risultato che è a beneficio di tutti quanti. E questo è il commento del colonnello Marco Pecci, comandante provinciale dei Carabinieri di Catanzaro, con riferimento all'operazione Safeticar, che questa mattina ha portato all'arresto di 20 persone, per lo più di etnia Rom. Una vera e propria banda criminale, dedita al furto di automobili e quindi all'estorsione di denaro. L'indagine è partita dal comune di Gasperina la scorsa estate, in seguito alla denuncia di alcuni cittadini. Da lì un'intensa attività dei Carabinieri, che grazie anche ai sistemi di videosorveglianza, ha permesso di ricostruire l'attività criminale dell'organizzazione. C'è un'indagine a carattere locale, che ha riguardato una parte della provincia di Catanzaro, però è importante perché è un reato odioso, cioè quel reato tipico di quando la sera si lascia la macchina sotto casa, la mattina dopo per andare al lavoro non si trova, si va al bar, si esce e non si trova la macchina. C'è stata una grande intuizione da parte di una piccola stazione dei Carabinieri di Gasperina, poi coadivata dalla compagnia di Soverato e dal comando provinciale dei Carabinieri di Catanzaro, dove si è dimostrato l'esistenza di un'organizzazione che in modo sistematico hanno rubato circa 50 automobili. Rossella Galati per la Cineus 24. Ancora cronaca, ieri sera l'omicidio di Mario Torchia, ufficiale giudiziario molto noto a Vibo Valencia, a una tragedia che si è consumata a Francavilla Angitola, arrestato l'assassino, il servizio di Cristina Iannuzzi. Foca Carcè di 25 anni, armato di coltello, si è presentato nell'abitazione del suo parente, in via Padre Mondello a Francavilla Angitola, nel Vibonese. Inconsapevole del piano criminale, Mario Torchia ha fatto entrare il ragazzo che improvvisamente gli si è avventato contro, colpendolo con tre fendenti. L'omicidio si è consumato ieri intorno alle 17.30. La vittima, Mario Torchia, 59 anni, ufficiale giudiziario, era molto nota nel piccolo centro dell'Angitolano, dove ha ricoperto nel 2007 la carica di vicesindaco, così come nel resto della provincia. Ferito in modo non grave anche il figlio Giuseppe, che in vano ha tentato di difendere il padre dalla furia omicida, ora si trova ricoverato in ospedale. In casa, al momento dell'aggressione, pure la moglie della vittima, scampata alla morte, è stata lei ad allertare le forze dell'ordine. Tempestivo l'intervento dei carabinieri della compagnia di Vivo, guidati dal capitano Piermarco Borretaz, che hanno subito fermato e condotto in caserma l'autore del delitto. Foca Carchedi, attualmente nel carcere di Catanzaro, dovrà rispondere di omicidio e tentato omicidio. Sul luogo del delitto anche la scientifica per ricostruire la dinamica del fatto di sangue che ha sconvolto Francavilla Angitola. Nelle vicinanze della grande casa teatro della tragedia, i carabinieri hanno rinvenuto l'arma utilizzata per uccidere il professionista ancora impregnato di sangue. L'assassino, figlio di un medico condotto, soffrirebbe di una grave forma depressiva. Cristina Iannuzzi per la CNews 24. E continuiamo con la cronaca, rischiano l'arresto gli imprenditori che costringono i loro dipendenti al cosiddetto lavoro grigio, cioè fanno firmare una busta paga ma liquidano solo una parte dello stipendio. Dopo la mezzia terme, ecco quello che è successo a Melito Portosalvo. Ha costretto i suoi dipendenti, dietro minaccia di licenziamento, a sottoscrivere a titolo di quietanza ricevuta di pagamento buste paga indicanti somme di denaro superiori a quelle pagate. Con questa accusa, la Guardia di Finanza ha arrestato e posto ai domiciliari un imprenditore titolare di un supermercato a Melito Portosalvo. L'indagine, coordinata dal sostituto procuratore Roberto Di Palma, è partita da un'attività di controllo in materia di tutela del bilancio comunitario relativo ai finanziamenti concessi alle imprese come incentivi per l'avviamento al lavoro di persone svantaggiate, rientranti nel Porcalabria 2000-2006. Numerosi sono stati gli imprenditori denunciati per diverse ipotesi delittuose, ma un aspetto ha attirato maggiormente l'attenzione dei finanzieri, e quello relativo proprio al commerciante di Melito. Quelle buste paga, infatti, presentavano troppe incongruenze. Gli accertamenti hanno dimostrato poi come l'imprenditore avesse liquidato i dipendenti somme nettamente inferiori a quanto dichiarato, ottenendo così un ingiusto vantaggio patrimoniale. Per lui è scattata l'accusa di estorsione continuata a danno dei lavoratori, da cui la richiesta della procura regina di emissione di un provvedimento cautelare. Conclusioni dell'accusa condivise dal GIP Antonino Laganà, che ieri ha messo l'ordinanza di custodia agli arresti domiciliari. Consolato Minniti, per la CNews24. E passiamo ora alla politica. Vertice fiume, ieri sera a Palazzo Campanella per i democratici calabresi. Tensione altissima, mentre sul prossimo congresso spirano sempre più forti i venti di scissione. Intanto Vandaferro fa il suo esordio tra i banchi dell'opposizione in Consiglio regionale. Il punto nei servizi di Riccardo Tripepi. Una riunione durata oltre quattro ore, barricati negli uffici di Palazzo Campanella del governatore Oliverio, i consiglieri del PD hanno discusso del delicatissimo momento che vive il partito ed è la seconda fase della legislatura da avviare. Esclusi dalla riunione, non senza polemica, i democratici progressisti, i giudici Andrea Neri e Bova. Al vertice ha preso parte anche il segretario Magorno, preoccupatissimo di tenere insieme le truppe e di evitare che il partito calabrese possa subire scossoni per gli effetti dello tsunami che pare pronto ad arrivare da Roma. Il punto vero all'ordine del giorno è in questo momento tenere la stragrande maggioranza del partito calabrese nel PD. Poi abbiamo tempo per dividerci, se ci divideremo nel congresso. I consiglieri tutti hanno chiesto poi un cambio di passo e qualche modifica nell'assetto della giunta dei professori. La politica deve tornare a guidare i processi, il mantra del gruppo PD, ma il pensiero è comune a quello dell'intera maggioranza. Oliverio ha spiegato che qualche aggiustamento negli equilibri potrà avvenire, ma che non si farà trascinare in una contrapposizione tecnici-politici. Magorno invece ha glissato sul punto. Bisogna partire con iniziative sul report, così come l'ha definito Oliverio, sui territori. Puntualizzeremo meglio le scelte, i modi e i tempi nella prossima riunione del 26 del gruppo. C'è una discussione aperta su come rilanciare le cose buone che sta facendo la regione. Mi pare che la discussione è concentrata su questo e noi continueremo a sostenere l'azione di governo come partito. Riccardo Tripepi per la CNews24 L'ingresso di Vandaferro in consiglio ha già sparigliato le carte all'interno degli schieramenti. Come già annunciato, laferro si è iscritta al misto e si è accomodata tra i banchi dell'opposizione, sedendosi tra Tellini e Orso Marzo, che recentemente ha abbracciato la causa di Giorgia Meloni. Dal misto rappresento Fratelli d'Italia, ha spiegato l'ex delfino di Scopelliti. Una fila più in giù gli uomini di Forza Italia, il capogruppo Nicolò e il consigliere Morrone, ai quali laferro non ha dedicato neanche un saluto nel suo discorso di insediamento. Nonostante lo abbia riservato anche a qualche esponente del centro-sinistra, a partire da Flora Sculco, alla quale ha detto «Da oggi sarai meno sola». Ma il carico da 90 alla ferro lo ha ammesso, chiedendo la verità sulla legge elettorale che l'ha indebitamente tenuta fuori dal consiglio. Ha sentitsi chiamato in causa proprio Ennio Morrone. «Ero capogruppo di Forza Italia», ha ricordato. «Sulla legge non c'è stato nessun tipo di coordinamento formale. È uscita dall'aula, così come era entrata». Nel ping-pong di responsabilità laferro ha tirato poi anche il governatore. «Non ho per nulla gradito la scelta della giunta regionale di costituirsi davanti al TAR, abbastanza per convincere Oliverio ad intervenire nel dibattito. Mi preme ricordare che la legge elettorale è stata approvata nella precedente legislatura, ha detto il Presidente, ed è stata votata a maggioranza con il PD che abbandonò l'aula. La Costituzione in giudizio è stata dovuta per difendere la legge e il voto dei calabresi, non la norma di esclusione». Riccardo Tripepi per la CNews24. Ieri ospite alla Mezzia Terme, questa mattina a Cosenza. Maurizio Landini, segretario generale della FIOM CGL, ha incontrato i metalmeccanici e a margine ha parlato anche della scissione in seno al PD. Ci racconta come è andata Salvatore Bruno. «Se la discussione non è finalizzata a decidere chi deve comandare in questo e in quel partito, ma diventa una discussione sulle cose concrete da fare, io credo che sia una cosa che possa essere anche utile. Se invece tutto si riduce a una lotta interna, vedo il rischio che una cosa di questo genere allontani ancora di più le persone». Maurizio Landini, intervenuto a Cosenza all'attivo allargato dei metalmeccanici, non si sottrae alle domande sulla scissione del PD, non perché il sindacato debba fare politica, ma il destino del partito che guida il Paese si ripercuote comunque sulla vita dei cittadini. «Io faccio il sindacalista, quindi quale sarà l'evoluzione di questo dibattito politico lo vedremo. Se rimette al centro il lavoro, e cioè la discussione è capire che le riforme fatte sono sbagliate dal governo Renzi e che vanno cambiate, bene, in caso contrario non so che elemento farà. E' importante che il sindacato mantenga una sua autonomia e una sua indipendenza dal quadro politico». Presenti i vettici locali della CGL, al centro del dibattito la riforma del lavoro, ma anche i difficili rapporti con l'Europa. «Il problema è riscrivere tutti i trattati, perché noi abbiamo fatto un'unità europea solo sulla moneta, mentre non c'è un'unità sociale né fiscale né economica né politica e soprattutto i trattati che hanno introdotto i vincoli d'austerità e pareggi di bilancio stanno facendo implodere l'Europa». Salvatore Bruno per la CNews24. Voltiamo pagina, andiamo a Vibo, Valencia. Quella che vi raccontiamo è la prima parte di un'inchiesta del nostro Agostino Pantano. Ci occupiamo di un presidio che dovrebbe essere il luogo simbolo della sicurezza in caso di calamità. Guardate invece in che condizioni si trova. Questo ufficio della protezione civile comunale di Vibo, che ha un compito fondamentale per la tranquillità dei cittadini, è operativo in un caseggiato che è utilizzabile solo per metà. La sede Com, nei cui locali Comune, Prefettura, Forza e l'Ordine e Volontari regolano le operazioni per le emergenze anche nei vicini centri di Santo Onofrio, Stefanaco e Ionati, è situata dentro gli ex mercati generali, un complesso oggi abbandonato a cui si può accedere con estrema facilità. In effetti noi abbiamo strutturato una parte, un pubblicato, un mercato, e questo non è più difficile. All'interno quella che un dipendente comunale definisce ristrutturazione in realtà sembra solo un'opera fatta alla meno peggio. Chi frequenta questi locali lo fa stando a contatto con muri umidi, tetti che grondano acqua e nell'ufficio si arrangiano come possono. Sì, siamo un po' abbandonati, nel 2006 che siamo qua, non c'è stato mai fatto un minimo di confezione. Ma anche all'esterno della sala operativa il degrado è evidente. Ogni tanto vengono acqui il cittadino in maniera di tutto, diciamo così, per favore, cacchiamico. Il decoro manca da anni eppure la funzionalità dello stabile sembra incerta. A guardare dentro e fuori questi uffici che ospitano anche una sala conferenza, l'emergenza che bisognerebbe prevenire, appare invece una situazione cronica con cui si convive. Agostino Pantano per la CNews 24. A Reggio Calabria chiude anche la terza struttura di prima accoglienza per minori non accompagnati e il sindaco Falco Matà fa il punto della situazione. Dominella Trunfio. Sono state chiuse le strutture di archi, la palestra di archi, lo scatolone, è stato chiuso anche il centro polivalente di Rosalì. Oggi i minori stranieri non accompagnati presenti sul nostro territorio sono soltanto presenti nelle strutture della capitaneria di Porto. Il tema dell'accoglienza dei migranti è ancora nell'agenda dell'amministrazione regina Falco Matà. L'attenzione è soprattutto per i minori non accompagnati che non rientrano nel piano di riparto nazionale ma che, come prevede la normativa, devono rimanere nella città in cui sbarcano. Dopo le polemiche delle settimane scorse, sotto il mirino ci sono i centri di prima accoglienza. Con il trasferimento degli ospiti di Rosalì a Isola Caporizzuto, la macchina è già in moto per pensare a soluzioni più incisive. Insieme al Ministero e insieme alla Prefettura stiamo andando a individuare altri immobili collocati in zone non promiscue. 48.000 è il numero dei migranti sbarcati a Reggio Calabria negli ultimi tre anni, 470.000 euro i soldi spesi nel 2016 per l'accoglienza. Oggi le navi arrivano sostanzialmente nei porti della Sicilia, della Calabria, della Puglia, in parte della Campania. Una nuova disciplina sugli arrivi consentirebbe di essere ancora più coerente con quella che è la nuova linea dettata al Ministero su una distribuzione su tutto il territorio nazionale delle cosiddette quote di migranti. Dominella Trunfio per la CNews 24. E da Reggio Calabria alla Mezzia Terme dove torna prepotente l'emergenza rifiuti. Tiziana Bagnato. Quella che vedete nelle immagini è via del progresso. L'arteria stradale che segna l'entrata alla Mezzia Terme. Una decina di chilometri puntellati da rifiuti, microdiscariche e cassonetti messi a fuoco. E di nuovo emergenza rifiuti nella città della Piana dopo il secondo guasto in meno di 15 giorni all'interno degli impianti della Società di Trattamento Rifiuti da Neco che si occupa di smaltire la spazzatura raccolta alla Mezzia Terme e Catanzaro. La situazione è molto preoccupante anche perché noi non eravamo neanche riusciti a smaltire tutto quello che vi era stato di arretrato nella raccolta, circa 500 tonnellate. Si stava cercando un po' di smaltirle ma il nuovo guasto all'impianto ha bloccato tutto e la situazione è tornata di emergenza assoluta. E ora il sindaco Paolo Mascaro ha deciso di andare a bussare direttamente alle porte della Regione. Chiederemo alla Regione un incontro in questa settimana per fare il punto sulla tematica dei rifiuti perché la sensazione è che questo impianto che non ha sostanzialmente alternative oggi presenta dei problemi di funzionamento probabilmente anche perché l'impianto stesso tenta ad essere ormai verso la fine della sua attività. Tiziana Bagnato per la CNews24. Siamo ora alla musica, allo spettacolo a Reggio Calabria da una notte magica al Palacalafiore con il concerto di Ligabue. 1103 chilometri percorsi, tir carichi di attrezzature, una band che fa la differenza ed un rock che corre dall'energia del ritmo alla delicatezza di un arpeggio che sadima l'inconica nostalgia. Sei anni dopo Luciano Ligabue torna a Reggio Calabria con il suo tour Made in Italy ed infiamma un Palacalafiore che per l'occasione si presenta col suo abito migliore. Stracolmo è pronta ad urlare a squarciagola a quei successi che hanno scritto la storia della musica italiana. È un concerto diviso in due tempi, quello del rocker di Correggio. 14 brani, tutti tratti della sua fatica più recente, esaltano melodie e testi che risentono della maturità artistica. Ligabue tira dritto tutto d'un fiato non concedendo alcuna pausa. Ma quando la giacca lascia spazio al gilet allora si intuisce che è tempo di tornare ai successi veri, quelli che mettono d'accordo le quattro generazioni presenti al Palacalafiore. I ragazzi sono in giro e l'odore del sesso scaldano l'atmosfera che si fa rovente con A che ora è la fine del mondo. Non è tempo per noi, Lambrusca e Popcorn creano un tappeto soft da percorrere interamente per aprire la porta dell'energia. Il Palacalafiore è una bolgia. Certe notti orlando contro il cielo servono solo a mettere il sigillo su 120 minuti di adrenalina pura. Stasera si replica e sarà ancora sold out. Consolato Minuti per la Cineus 24. E restiamo nella città dello stretto due settimane dedicate alla musica lirica con star internazionali ma anche tanti interpreti calabresi. Dal 25 febbraio il Teatro Cilea ospita il Festival Mediterraneo Sacro e Profano. La musica lirica torna a Reggio Calabria e lo fa in grande stile. Due settimane di eventi costari internazionali come Dimitra Tudussu e Roberto Scandiuzzi ma anche giovani interpreti calabresi. La suggestiva location del Festival Mediterraneo Sacro e Profano diretto da Domenico Gatto sarà il Teatro Cilea. L'evento aprirà i battenti il 25 febbraio. Si apre con i testi di Anna Maria Ortese, a scrittrice straordinaria che racconta Napoli e il Mediterraneo e si chiude con uno Stabat Mater. Nel frattempo in mezzo due appuntamenti magnifici e preziosi che sono il primo sabato 25 con un galà lirico appunto con Roberto Scandiuzzi, Dimitra Tudussiu, Liliana Marazzano, cantanti veramente di spessore internazionale che in questo momento stanno cantando nei teatri del mondo e alcuni di questi giovani interpreti. Il secondo appuntamento invece è sabato 4 e finalmente un'opera di Mozart arriva a Reggio Calabria. Dopo 200 e passa anni Mozart sbarca sullo stretto con le Nozze di Figaro. Le momenti forse più felici della trilogia di Mozart. Dominella Truffio per la Cineus 24. E in chiusura allo sport, palla a nuoto, Città di Cosenza batte Roma e vola ai quarti di finale di Coppa Italia. Adesso c'è il rapallo. Se le risposte mancano in campionato non tardano ad arrivare comunque in Coppa Italia. Il Città di Cosenza impegnato lo scorso weekend al Foro Italico di Roma conquista la Final Six nella competizione più ambita. La formazione guidata da Cocce Capanna, battuta dal Bogliasco prima per 18-11 e dal Messina dopo con il risultato di 17, trova comunque il via libera per accedere alla finale grazie al successo proprio contro la squadra di casa Roma, appunto. Arrivato pari punti in classifica con le Capitoline, il Città di Cosenza si qualifica grazie alla vittoria nello scontro diretto. Dunque la giusta scossa per il sestetto cosentino che accede così alla sesta edizione della competizione, che andrà in scena dal 30 marzo al 1 aprile. Conquistata ora questa importante qualificazione, però la concentrazione ritorna al prossimo turno di campionato e sarà un'altra volta trasferta a Capitolina. Nella giornata numero 11 la squadra di Cocce Capanna affronterà infatti Roma. Ora quinta forza del campionato con 14 punti e pronta al riscatto, tanto in Coppa Italia quanto in campionato, visto infatti le ultime tre sconfitte. Maria Chiara Sigillò per la C News 24. E con la palla a nuoto termina l'edizione di questa sera di La C News 24. Come sempre grazie per la cortese attenzione, a tutti voi un buon proseguimento di serata. Arrivederci. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.